Mi sta partendo da una semplice domanda, come è stato l'impatto con questo nuovo ambiente? Questo nuovo ambiente è ottimo, io sono uno che so adattarmi a tutto, devo dire che la società è stata molto brava e sono contento anche da parte dei ragazzi, di tutto l'ambiente, mi hanno accolto molto bene e stiamo lavorando molto bene, sono contento, felice. Dall'inizio ha detto che credo nella salvezza dell'Albino Leffe, ci crede ancora? Se sono venuto qui è per quel motivo lì, nonostante cosa vorresti dire due sconfitte e due pareggi, però bisogna vedere anche con chi abbiamo perso, abbiamo perso in qualsiasi squadra, ripeto ho bisogno di lavorare, di lavorare molto perché c'è un'organizzazione di gioco che ci permette di affrontare qualsiasi squadra e ci vuole del tempo e direi che adesso il tempo c'è abbastanza. Infatti il suo lavoro man mano che passa il tempo si vede sempre di più, soprattutto nella compattezza e anche nella fase difensiva che è molto migliorata. Sì, migliorato ma dobbiamo migliorare ancora molto, bisogna avere più fiducia, magari rimanere un po' più alti, che non è facile perché non è facile data dalla classifica, perché tante volte le cose vengono magari se non sei in questa classifica qui, perciò con la testa non è facile giocare, però devo dire che i ragazzi la stanno facendo abbastanza bene e sono contento, speriamo che continui in questo modo qui. Grazie 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 Grazie